Assistenza in cantiere, officine interne, macchinari sostitutivi. Nicoletti EMAC, azienda leader nel settore edilizio e non solo, è alla continua ricerca di marchi innovativi. Fornisce un servizio di noleggio completo e offre al cliente, al centro del programma EMAC, un magazzino fornito e completo, fiore all'occhiello dell'azienda. Per noi, essendo già una realtà ben consolidata, con oltre 20 anni di esperienza nel settore edile, e stiamo da un po' di tempo lavorando bene anche nel settore industrie. Oltre a questo, siamo comunque, come dicevo prima, consolidati nel settore edile, con marchi importanti leader, come i sollevatori telescopici Merlo, come mini scavatori e scavatori Kubota ed altre marche ancora. Il nostro lavoro continua con il noleggio di macchinari e anche di infrastrutture, come casseformi per la costruzione di getti in calcestruzzo, con il noleggio di infrastrutture come il ponteggio assieme all'installazione, ma da un bel po' di tempo ci stiamo rafforzando e potenziando con il magazzino. Per noi il magazzino è un punto forte per accogliere e ricevere il cliente, ascoltare i propri bisogni, ascoltare tutto quello che gli può servire e veramente con il magazzino di San Martino Bonabarco crediamo, riteniamo che stiamo raggiungendo qualcosa di entusiasmante e di importante. Il Miluocchi Italia, assieme a EMAC, gruppo Nicoletti, ha visitato nel giro di quattro giorni un gran numero di cantieri per proporre, assieme al marchio Nicoletti, anche gli elettrutenzi professionali Miluocchi. Si tratta di un'iniziativa molto forte, molto particolare, in cui esiste una partnership tra il distributore e il produttore per affrontare il mercato e raggiungere risultati di vendita molto importanti. La realtà EMAC è presente sul Veneto e Friuli Venezia Giulia, con filiali sparse sul territorio e proprio a breve inaugurerà un nuovo centro logistico ben visibile dall'autostrada nei pressi di Dolo. Nicoletti EMAC si trova in Viale dell'Industria 4 a San Martino Bonalbergo.